Parlando con alcuni di questi politici ci rendiamo conto che non sono informati, non conoscono, non sanno, non sono i cittadini ma sono anche politici che non sanno, perché se conoscessero bene questo strumento capirebbero che è vantaggio di tutti i struttari, perché la sua cittadina è suonato il nostro politico che favorisce la politica, la democrazia e le scelte, perché si integra parallelamente alla democrazia rappresentativa delle elezioni, e una democrazia deliberativa del cittadino che porta idee in poste facilita quella trasformazione della società che adesso è indispensabile e fa in modo che non siano vuote parole quello che continua a succedere, perché siamo tutti d'accordo ormai, prima non aspetta e bisogna trasformare la società, però nessuno sta facendo, troppo a poco si sta facendo.